Come dicevo poc'anzi, sono soddisfatto perché farsi trovare pronto non è mai semplice. Io però lavoro quotidianamente come se dovessi giocare, perché refuto che la Cremonese abbia due ottimi portieri e che quindi questa debba essere la mentalità. Io sicuramente, dal canto mio, sono un ragazzo che cerca di migliorare, argomentare sempre, quindi sia con Michael che con Davide che con Jack ogni giorno cerco di aumentare il mio bagaglio, sono felice di questo. Stasera portiamo a casa un punto che secondo me è comunque un mattoncino che muove la classifica perché un campo ostico come Trapani sarà un campo difficile per tante compagini. Si lavora duramente durante la settimana per arrivare a questo, sono stimolato quotidianamente dal nostro preparatore dei portieri, insieme formiamo con gli altri ragazzi, sia con Michael che con Jack, come ti ho detto formiamo un'equip importante. Ogni giorno alziamo la sticella e questa deve essere la mentalità che ci accompagna da qui fino alla fine.